Blackout, figli del cambiamento climatico, un fenomeno che sta riguardando molte aree della Campania, soprattutto le città più grandi e ovviamente tra queste c'è soprattutto Napoli che soffre problemi di disalimentazione elettrica in tanti punti della città. Il problema specifico sono i cavi surriscaldati ma ce n'è uno più ampio rappresentato dalla questione meteo. Tenere in funzione per quasi tutta la giornata i refrigeratori di aria condizionata è diventata quasi una questione di sopravvivenza. Quello che prima veniva considerato lusso perché le temperature seppur calde erano comunque nella norma, ora non è più così e questo si aggiungono i cavi della rete elettrica che si surriscaldano e il blackout è servito al netto dell'adeguamento della rete che a Napoli è comunque necessaria. Ieri altri disagi soprattutto in collina via Tasso e via Solimena al Vomero, parte di Fuorigrotta nel primo pomeriggio e parte di Chiaia. Problemi analoghi anche nei quartieri dell'area orientale e sull'isola di Ischia. Sulla mappa delle disalimentazioni di i-distribuzione la provincia di Napoli è flagellata da pallini rossi e gialli che contraddistinguono i guasti e le interruzioni di elettricità causate da lavori in corso. Ieri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo si sono visti in municipio e hanno parlato proprio dell'accelerazione dei processi di elettrificazione ma non sono un adeguamento dei cavi. L'unico problema c'è qualcosa di più grande che ingoloba ogni aspetto del vivere quotidiano. Allora la sensazione è che si tratti di palliativi. Occorrerà abituarsi anche a questi grandi camion che stanno iniziando a circolare con maggior frequenza in città queste gigantesche power station, gruppi elettrogeni che sostituiscono in caso di emergenza la rete elettrica e consentono ai residenti rimasti senza luce di fare il minimo possibile in attesa che il guasto venga riparato.